e bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video più esattente torniamo in standard per andare a vedere un mazzo del paladino un paladino in versione mac e non pure in quanto è una lista molto divertente che vi potrei consigliare non è forse tra gli migliori del meta ma di sicuro non è nemmeno tra le più costose e quindi potrebbe valer la pena per la scalata a legend per quanto riguarda curva di mana ovviamente è un mazzo potremmo dire di stampo mid range aggressivo quindi curva di mana abbastanza bassa con il picco delle carte sui 2 a 1 mana giochiamo errore che è un amalgama che ovviamente avendo tutti quante le varie tribe ha anche quella dei mech l'oscillatore che forse è una delle carte più forti aggiunta nella nuova espansione 1 mana 2 1 grill battaglia prossimo robot che giochi costa 1 in meno questo vi permette di fare dei turni molto esplosivi in particolare a turno 2 quando potete magari andare a giocare dei drop davvero molto molto forti a chiudere il drop 1 abbiamo tic tac che invece è un piccolo end buff in quanto da più 1 più 1 ha un servitore in mano a 2 mana che sono i drop anche più consistenti giochiamo un'altra amalgama 2 3 classica un automatron 1 3 che si buffa ogni mech che vai a giocare sempre di mech giochiamo fastidio bot che è abbastanza appunto fastidioso come dice il suo nome e l'ultimo robot a 2 mana è salvatrice fondale 2 mana 2 2 che vi permette di dragare e tra l'altro aggiunge anche le sue statistiche al servitore dragato giochiamo altre due carte a 2 una è disco maglio che ogni carta che tu vai a giocare poi questa carta si carica ottiene sempre più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 una volta che avrà ranto di morte andrà a dare questo buff a un vostro servitore casuale l'altra spell invece è rivelatore radar che invece è il peschino più forte dell'intero mazzo in quanto praticamente come avete visto giochiamo solamente robot quindi questa carta può avere potenziale da pescarvi da 3 a 5 carte tendenzialmente a 3 mana invece vogliamo andare a giocare la germiluna 3 mana 4 2 scudo di vino grillo battaglia mette un germiluna sommerso in fondo al tuo mazzo cosa fa il germiluna sommerso praticamente è un 4 2 con scudo di vino che evoca un altro 4 2 con scudo di vino come fate a prenderlo da in fondo al tuo mazzo ovviamente sia dal radar sia dalla 2 1 dalla 2 2 che abbiamo appena visto sempre a 3 mana giochiamo anche sorvegliante di bronzo altra carta molto buona tra l'altro con magnetismo quindi oltre a dare molte statistiche permette anche di fare magari qualche dannino in più che non è mai male 4 mana 4 4 grillo battaglia fornisce scudo di vino e provocazione agli altri tuoi robot questa è la carta che serve per andare a fare degli 8 in value trade e per andare sopra contro mazze aggressivi invece minaccia replicante è un'ottima carta per continuare ad avere presenza in board passando i drop a 5 abbiamo doppio automata guerra tantissimi danni in verità con magnetismo e soprattutto in ispiralampo che va a duplicare un robot tendenzialmente vorrete duplicare sempre robot belli grossi cicciotti magari su cui avete magnetizzato altri pezzi però a volte basta anche un semplice non lo so un semplice automata guerra singolo oppure un bellobot oppure un levetano eccetera eccetera che ad andare ad obbligare che diventa molto molto forte in quanto tiene scudo di vino fuori del vento assalto eccetera eccetera chiudono la lista ovviamente zilex stiamo parlando di un mazzo mech quindi non può non esserci lui ovviamente la carta migliore dei secoli e dei secoli e poi il leviatano settimana 4 5 colosso del paladino che fa la differenza in questa lista direi che è tutto noi andiamo con le partite e quindi andiamo subito con la prima partita che viene giocato contro sciamano sciamano che per lo più potrebbe essere overload o totem in entrambi i due casi noi dobbiamo partire molto bene il 2-1 di sicuro ci dà una buona ragione ad essere la maiga ma potremmo appoggiarla tranquillamente a turno 2 cercando un altro drop a 1 se non lo dovessimo pescare non l'abbiamo pescato però abbiamo trovato il 2-5 che comunque potremmo magnetizzare al 2-1 e potrebbe essere per niente male vediamo l'avversario che cosa farà a questo punto decide di fare guida della scuola non è un grande problema vediamo se gli esce il taunt gli esce il totem 0-2 direi che possiamo andare a magnetizzare non avendo il drop a 1 in mano e direi che 4 danni li portiamo sempre a testa l'avversario va di banco di piragna va a sviluppare un 1-1 che saremo obbligati a traddare teoricamente in quanto quell'1-1 può diventare facilmente un 3-1 dall'amalgama non è che abbiamo trovato tutta questa grandissima cosa a questo punto prendiamo il 4 mana che comunque ci potrebbe difendere al prossimo turno i nostri servitori se non ci dovesse traddare il che non sarebbe propriamente male va di coin va a giocare la 5-4 la madre pietra e qui secondo me davvero perde tantissimo perché noi possiamo fare un ottimo value trade anche doppio value trade in verità sia sul totem sia sulla leggendaria andiamo completamente su di board potremo andare poi a duplicare il 4-5 anche se probabilmente qui ce lo andrà a traddare con i vari piragna cosa che sta per andare a fare appunto probabilmente ci tradderà pure il 2-3 in questa situazione in verità no perché gli mancava uno d'attacco poco male 4-4 andiamo a duplicarlo in questo modo otteniamo appunto una sua copia con rush fuori l'evento scudo di vino scudo di vino non che serva molto in questa situazione ma comunque è molto molto forte come turno abbiamo completa board control l'avversario è chiuso in un angolo prossimo turno abbiamo di nuovo il drop a 4 che ridà scudo di vino a tutti i nostri servitori e credo che la partita si possa concludere qui anzi si può già concludere in quanto sono 8 più 4 8 16 più 2 18 esattamente è lita già così infatti l'avversario va a concedere la partita è molto molto semplice come primo game davvero devastante il paladino tranquillo è riuscito a soverchiare insomma un totem shaman che poteva giocare secondo me un pochino meglio non ha sortato al meglio i piranha ma chi siamo noi per giudicare ci accontentiamo e anzi siamo contenti che sia andato così andiamo con la seconda partita che ci vede invece contro Dk Dk avversario sempre toast che sia blood, anoli o frost la nostra mano comunque è decente rivelatore lo andiamo a togliere perché lo vorremmo andare a pescare in mid game e non in early la mano iniziale è ottima in quanto possiamo mettersi al 2-1 sia l'1-1 anche se tuttavia non è che abbiamo questo robot in mano dovremmo andarlo a pescare in modo che vada a ricevere il buff da tic tac attenzione perché anche il drop a 3 è molto molto buono potremmo decidere addirittura di non andare a giocare tic tac qui per cercare poi di andare a magnetizzare a turno 2 infatti l'avversario va di rinascita il che a noi va tendenzialmente molto bene perché non sfrutta il coin in questo modo noi andiamo a magnetizzare andiamo a fare 4 danni faccia lo portiamo già a 26 peccato per il turno 3 che non ce l'abbiamo teoricamente l'unica cosa che possiamo fare è tic tac più hp però ovviamente contro un anoli è abbastanza bruttino come turno e anoli in quanto gioca la versione con i murloc a me non piace tantissimo io preferisco la versione normale però vediamo come se la caverà va a traddare il murlocchino 1-1 non morto in questo modo va a scontarsi una carta di 2 la appunto la spella appena discoverata amalgama è molto buona vediamo se il buff va su di lei purtroppo no ma comunque la giochiamo lo stesso troviamo anche il turno 4 che è un signor turno 4 tra l'altro in questo modo direi andiamo a fare value trade e possiamo passare il turno una situazione comunque positiva abbiamo molta board l'avversario si ritrova solo 3 mana va a buffare il 3-1 in modo da tradarci 4-3 con l'hp ci va a togliere probabilmente anche lo scudo di vino su tic tac e noi andiamo a ridargli il scudo di vino a dire il vero direi che facciamo il value trade andiamo a faccia con un danno e poi il prossimo turno ripostiamo a fare presente la giocata del primo game con il drop a 5 sul drop a 4 anche se non è una giocata fortissima in questo spot va più che bene anche perché lui va a giocare un 4-4 insegnante che ok è forte però tendenzialmente a noi dovrebbe andare più che bene andiamo a giocare oddio anche il drop a 4 è buono ma in verità secondo me qui è troppo più pulito andare a creare una copia anche perché ha un bellissimo value trade è vero che non sfrutta furia del vento in questo turno ma potrebbe svilupparla a turno dopo anche perché Anoli non è che abbia tutte queste risorse questi removal anzi non ne ha proprio Folata Gelida di sicuro lo va a aiutare un pochino in quanto non solo ci fa un danno a tutti i servitori ma soprattutto ci frizza il 4-1 sono 8-10-11 danni non è più l'ital però comunque a noi va tendenzialmente bene peccato per Asfissie in quanto poteva andare tranquillamente sul 4-1 sarebbe stato davvero molto molto meglio ma purtroppo non va sempre bene troviamo errore che non è un buon pezzo in questo momento andiamo quindi a dragare troviamo Zileax che potrebbe essere più che buono andiamo a fare il 4-4 ridiamo Scudo Divino a tutto quanto e ovviamente andiamo a faccia se prima si è salvato con Folata Gelida ora dubito che possa gestire la situazione è vero che a Sylvanas e ce l'ha pure infusa e il 4-1 permette di fare un po' di trade ma a dire il vero qui sono comunque altri 6 danni che gli entrano e in più abbiamo un Leviatano davvero molto molto forte peccato per Zileax perché siamo solamente uno off quindi non è l'Ital però non dovrebbe essere un grossissimo problema nel proseguo della partita ovviamente andiamo a pescare prima poi andiamo a dragare vediamo cosa andiamo a dragare nulla di troppo interessante forse l'1-3 è il pezzo migliore in verità lascia un po' quel tempo che trova andiamo a fare altri 6 danni abbiamo settato l'Ital non penso che attualmente rischiamo davvero davvero nulla soprattutto contro Anoli a settimana non mi viene in mente che possa ribaltare la situazione in questo spot e infatti deve andare a concedere anche seconda partita abbastanza liscia per il pala che si sta comportando devo dire abbastanza abbastanza bene terzo ed ultimo game di oggi che invece ci vede in un mirror match quindi giochiamo contro Paladino Paladino avversario tosto la mano non è che sia delle migliori disco maglio comunque lo teniamo perché potrebbe darci soddisfazione anche se il 2-1 insieme al 4-2 è molto molto buono c'è da dire troviamo 2-2-1 attenzione direi che li possiamo giocare immediatamente per salire subito su di valore e di tempo ci sta pensando a suo turno deve passare troviamo anche il 2-5 sono molto indeciso in verità se giocare 4-2-2-5 però il 4-2 qui secondo me è più buono per il proseguire la partita il 2-5 al massimo lo possiamo magnetizzare dopo su chi vogliamo magari sullo stesso 4-2 è un control pala in quanto gioca lampo di luce non che mi preoccupi troppo a dire vero questa situazione però appunto essendo un control pala preferisco prendere un po' di precauzioni andare a giocare a disco di maglio più tic tac in modo da non andare a mettere troppi pezzi forti in early game che se poi dovesse avere modo di traddarli sarebbe di sicuro un problema forse non è un control pala ma potrebbe bensì essere un big pala anzi ora che mi è venuto in mente è più probabile perché non conosco altre liste quindi siamo tranquilli che non è che abbia tutte queste grandissime rimozioni possiamo andare tutto quanto test abbiamo settato l'ital per il turno dopo mi sa che questa partita si chiuderà a turno 4 per lui perché andrà a concedere una recluta di sicuro non aiuterà questa cosa nemmeno questo in quanto è vero che ha furto vitale ora l'eroe ma abbiamo lo scudo di vino e quindi non si attiva al furto vitale e deve andare a concedere vi dirò che questa partita è stata talmente veloce che ne facciamo la terza e una quarta perché intendo avete visto poco nulla quando il mazzo paladino parte così bene poi può vincere tranquillamente contro tutti e tutto quarto e ultimo game quindi di oggi che ci rivede contro paladino interessante speriamo che a questo punto non sia big pala perché abbiamo visto che lo divestiamo magari è un mirror match o giochiamo contro pure tantissimi troppi forse drop a 2 andiamo a toglierli l'1-3 ce lo teniamo purtroppo per noi non riusciamo a trovare nulla di troppo entusiasmante non troviamo nemmeno un drop a 1 vediamo l'avversario che cos'è è un pure pala infatti va a giocare la 2-1 noi dobbiamo cercare di salire qui subito di prepotenza se dovesse avere buff forte lui non posso non posso giocarci assolutamente attorno e purtroppo ha il buff e qui la partita ovviamente si mette male però era l'unico modo per andare a sovrastare fin da subito avversario questo top deck c'è da dire che è molto molto buono in quanto l'1-2 ci permette comunque un ottimo value trade sul 4-1 e poi potremmo iniziare ad andare dei vari 4-2 abbiamo la spella 2 che va a dragare poi le copie e così via questo turno a noi va tenenzialmente bene in quanto comunque ci permette un buon trade potremmo magnetizzare l'2-5 però secondo me il 4-2 comunque qui è troppo pulito non ha i giusti trade in quanto può fare value trade sull'1-2 ci può in verità togliere lo scudo di vino su 4-2 ma non ce lo può traddare probabilmente è quello che va a fare è infatti quello che è andato a fare noi troviamo il 4-4 che è forte ma non così buono a dire è vero direi che possiamo andare a giocare un altro 4-2 andiamo testa ce ne freghiamo della borne mica è lui che deve traddare noi siamo mazzo più aggressivo di pure pala quindi ci penserà lui infatti è quello che va a fare la 2-3 ci va a togliere statistiche al nostro 4-2 e fa anche ordine in aula quindi prossimamente avrà pure elemente la situazione non è delle migliori ma potrebbe essere anche addirittura peggio noi andiamo comunque a dragare in questo modo ci prendiamo doppia coppia dei vari 4-2 e torniamo un pochino sopra di board andiamo a spaccare anche lo scudo di vino del 4-3 in modo da non permettergli dei value trade troppo puliti decidi decidi di tradarci l'1-1 particolare quindi decidi di non spaccarci gli scudi di vino forse io avrei spaccato gli scudi di vino va di sigillo e sangue si prende ulteriori 3 danni va a 21 e deve iniziare un attimo a pensare alla sua vita farei cluta più manta di luce più seconda manta di luce che appunto ha pescato dalla spell da 2 che aveva tirato prima e decide di andare a faccia attenzione questa faccia forse potrebbe cambiare leggermente le cose in quanto è stato un po' troppo aggressivo dovrei un attimo pensare qui a che turno fare direi che il 3-5 va comunque abbastanza bene ci permette di fare doppio value trade a levante inoltre da taunt ai nostri servitori e dovrebbe andare bene infatti non ho ben capito perché ha deciso di andare faccia all'avversario completamente sconsiderato anche perché poi bastava controllare la board per poi andare a giocare con Tessa ma noi abbiamo modo ora di risalire un pochino la china possiamo andare a duplicare il 6-2 in questo modo avrei giusti trade sul 7-6 grazie appunto al 6-2 andiamo ovviamente faccia lo portiamo a 15 andiamo a rifare nuovamente trade vediamo cosa gli uscirà dai biglietti e possiamo pregare sta andando a discover piano piano penso che li andrà a giocare tutti e tre sarà interessante se deciderà di giocare tutti e tre i servitori oppure solamente due oppure solamente uno dipenderà anche da cosa va a trovare sta pensando all'ultimo discover comunque discover che sono stati abbastanza veloci quindi penso che abbia trovato dei buoni servitori in quanto non ha pensato tanto della serie ok ho trovato merda infatti trova una remornia che è davvero molto buona perché permette degli 8 in trade su 6-1 con rush inoltre gli permette di riaverla in campo nuovamente comandante ultok non ha compledente senso come come carta anzi potrebbe farlo perdere letteralmente comandante ultok in quanto ora ci dà l'unico modo per poter andare a vincere questa partita praticamente andare a giocare tutti i nostri mech e dargli e dargli provocazione e scuro di vino cioè praticamente ci ha letteralmente fatto vincere l'avversario questo game e noi ringraziamo ringraziamo molto andiamo quindi a giocare Leviatano noi sappiamo che lui gioca paledino quindi non è che abbia tutti i danni dalla mano e niente noi possiamo andare a giocare tutto tranquillamente con calma ci riempiamo praticamente la board possiamo anche andare a dragare possiamo trovare automa che ci può dare l'ital per il prossimo turno andando a magnetizzare qualcosa a questo punto direi che andiamo faccia anche con la 4-4 andiamo a dare provocazione e scuro di vino a tutta quanta la nostra board l'avversario a questo punto non ci può più passare infatti ha capito che ha fatto l'errore della vita giocare 7-7 completamente no sense praticamente ci ha permesso un turno che ci ha fatto letteralmente vincere e noi ringraziamo direi che insomma è tutto anche per oggi un bel paledino spero che vi sia piaciuto noi ci vediamo domani con un nuovo video e niente ciao ciao ciao